E' stato il momento in cui l'Italia ha esportato il maggior numero di dischi del mondo. Non era una musica che mi piaceva, poi mi sono reso conto che non si può considerare un genere, ma un insieme di sottogeneri. La definita Fellini, la rappresentante più eloquente della donna italiana contemporanea. Io andai in vacanza a Londra e tra Michael Jackson e Elton John c'era Dolce Vita alla radio. Prima si è arrivato la canzone e poi quando si è successo, il produttore pensava di chi si metterà sul cover. Se non ci fosse stata quella musica, il sound europeo degli anni Ottanta non c'erano. non ci sarebbe mai stato. L'Italodisco era la colonna sonora di quell'estate. Gli anni Ottanta sono stati raccontati in maniera molto superficiale. Nel contesto italiano dobbiamo parlare di megadiscoteche. Da war l'Italia führen, was so ne DJ-kultur betrifft. Noi eravamo futuristi. Ma indicavamo il futuro. E io sono futuristi ancora. Aha, questa produzione è stata 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 da Italia. Per questo il nome Italodisco. Grazie.